L'olio d'oliva, protagonista di un interessante incontro nella sala dell'Officina del Gusto dell'Istituto Alberghiero di Pescara, olivicoltura nel paesaggio abruzzese. Esperti di olivicoltura, paesaggio, enogastronomia, turismo, hanno parlato dell'olio abruzzese, delle caratteristiche e delle potenzialità. La promozione di un territorio parte da una sinergia tra il mondo della scuola, con i produttori e le associazioni. Bisogna fare sistema, dirigente scolastica Alessandra Di Pietro. Il nostro evento nasce dalla sinergia che abbiamo ormai attivato da anni tra il sistema della formazione e quindi il nostro istituto, il mondo della produzione agroalimentare e le istituzioni. Noi abbiamo un obiettivo comune che è quello di promuovere attraverso la valorizzazione di un prodotto tipico identitario, l'olio extravergine e l'oliva DOP, la cultura gastronomica del nostro territorio. E vogliamo anche veicolare la conoscenza degli ambienti, dei paesaggi, la conoscenza dell'arte, della cultura e della storia del nostro Abruzzo. Il ruolo della formazione è strategico per il turismo enogastronomico abruzzese. Noi vogliamo creare delle figure che non siano soltanto per la ricezione turistica e per l'informazione, ma che abbiano delle competenze multidisciplinari e siano capaci di promuovere non soltanto l'enogastronomia del territorio, ma anche i luoghi, gli ambienti, la storia e la cultura. Ringrazio Silvano Ferri, presidente del consorzio DOP a Purtino Pescarese e Emanuele Fayetta, che rappresenta le città dell'olio d'Abruzzo. Ringrazio tutte le aziende che stanno partecipando e il presidente della provincia di Pescara e i sindaci delle città dell'olio, che hanno collaborato attivamente all'organizzazione di questo evento. C'è necessità di dare all'olio d'oliva il giusto valore con la comunicazione, ha detto Silvano Ferri, presidente del consorzio DOP a Purtino Pescarese. Oggi è fondamentale il rapporto scuola, mondo produttivo e soprattutto il combattio olivico-oleario che ha bisogno di una nuova comunicazione e far sapere a tutti la qualità, l'eccellenza e la bellezza del nostro territorio. Sono presenti i comuni di città dell'olio, ma la DOP a Purtino Pescarese rappresenta tutto il territorio della provincia di Pescara, quindi idealmente sono collegati tutti i produttori, ma abbiamo portato anche una presentanza regionale della DOP Colline Teatine, Colline Terramane e anche un produttore della provincia dell'Aquila, pruripremiato come tutti quanti quelli che sono oggi presenti.